Ti piacerebbe, vero, regalare a figli e nipoti, soprattutto adesso che è Natale, anche se è passato da qualche giorno, un bel investimento di quelli che rendono i milioni, fatto però come vuoi tu? Ecco, mi avete chiesto in tanti un video sugli investimenti per i minori, eccolo qui, ho sempre nicchiato perché la questione è molto spinosa ed è più giuridica che finanziaria. Perché, purtroppo, vi do subito una brutta notizia e quindi potrete abbandonare il video, quello che volete fare voi non si può fare. Contrariamente a quello che pensa il 90% dei genitori, i figli non sono dei burattini che si possono manipolare così e far fare loro tutto quello che si vuole con i soldi loro. No, non si può, no, 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 no. I figli sono delle entità giuridiche e anche fiscali, tra l'altro. Ho fatto un video una volta sul fatto che il figlio a carico non è il figlio che dipende interamente dal genitore, ma è una cosa diversa. Quindi sono delle entità giuridiche e fiscali completamente autonome, i loro soldi sono loro. Non potete usarli per i vostri scopi, ma non potete neanche usarli come volete voi. I soldi vanno usati nel bene del minore e i genitori ne sono solo il tutore per le attività ordinarie. E qui la parola ordinarie è la chiave di tutto. Quindi il genitore può utilizzare i soldi del minore, che so, per comprare gli vestiti, per comprare gli giocattoli, per fare quello che chiede il minore stesso. Si può addirittura aprire un conto corrente per minori, in cui il genitore autorizza il minore stesso a fare delle spese fino a un certo importo. E anche il genitore è autorizzato a fare delle spese fino a un certo importo. Però il genitore non può, ripeto, non può disporre dei beni del minore in grossa quantità, quindi per le operazioni straordinarie, che tipicamente sono gli investimenti finanziari, quindi non può, e l'acquisto di immobili. Il genitore non può. Per fare queste operazioni qui, qualunque operazione di questo tipo, serve sempre l'autorizzazione del giudice dei minori. E capite bene che andare dal giudice dei minori a disturbarlo per ogni scempiaggine del tipo devo decidere se incassare il dividendo in stock option o direttamente in cash, il giudice dei minori, giustamente, si fa pagare per questa attività. Quindi non è possibile assolutamente la scelta che molti di voi pensano di fare, che è quella di dare dei soldi al minore e fargli comprare degli strumenti finanziari da voi scelti, o addirittura un immobile. Questo proprio non è possibile. E so a questo punto che alcuni obietteranno, eh ma c'è la mia amica Pierina che ha cinque figli e ognuno ha intestato una casa diversa. Eppure questo è un investimento di tipo straordinario. Ecco, ci sono però dei modi per far arrivare al minore degli investimenti. Il modo è che voi acquistiate l'investimento e dopo cediate al minore non i soldi ma direttamente l'investimento. A questo punto il minore accetta, può darsi che dobbiate passare dal giudice ma sicuramente accetta perché dal punto di vista del minore gli entrano soldi. E quindi a meno che non gli stiate dando, non so, un terreno invendibile, il minore di solito accetta. E a questo punto l'investimento è suo. C'è da dire però che questa cosa è più teorica che pratica. Perché se con gli immobili si può fare ma avete dei costi aggiuntivi perché dovete acquistarlo voi e poi fare una donazione. Quindi con gli immobili direi è molto tipico. Con gli investimenti invece diventa veramente strano e molto difficile da fare. Con gli investimenti dovreste convincere un istituto di credito ad aprire un contotitoli a un minore. Cosa per la quale probabilmente l'istituto di credito vi chiederà l'autorizzazione del giudice già solo per quello. Dopodiché dovreste acquistare voi un titolo finanziario. Dopodiché donarlo al minore. Faccio notare che la donazione non è una vendita e ha delle implicazioni fiscali diverse. E l'istituto di credito, l'istituto intermediario finanziario non è minimamente capace di gestire questa cosa in maniera automatica. Dovrà gestire tutto a mano con conseguenti spese aggiuntive. Quindi mentre per un immobile c'è gente che lo fa, è fattibile, il notaio è in grado di farlo. Anche se di solito donare la casa a qualcuno non è mai un'ottima idea perché un eventuale acquirente futuro della casa potrebbe obiettare. Per gli investimenti io onestamente non ho mai visto fare una cosa del genere. L'unico caso in cui ho visto dei minori che possedevano investimenti finanziari era il caso in cui li avevano ereditati. In quel caso quando qualcuno decede tutti gli eredi ereditano i suoi investimenti. Attenzione, non ereditano come molti pensano il cash, i soldi degli investimenti. No, ereditano direttamente gli investimenti. Poi la banca suggerisce di liquidarli. Il problema è che se uno di questi è minore non può decidere di liquidarli. Riserva l'autorizzazione del giudice e se sono buoni investimenti il giudice potrebbe dire anche no. Non ho nessuna intenzione di farli liquidare. Il mio assistito, il mio minore, non ha nessun interesse a liquidare questi investimenti. E quindi ecco il caso in cui un minore si può trovare degli investimenti. Quindi scordatevi di fare quello che avete già in testa, che è quello di dare dei soldi al minore e obbligarlo a usarli per comprare degli investimenti, perché non si può fare, ed è anche estremamente difficile che voi compriate degli investimenti e li doniate al minore. Ma allora cosa possiamo fare per investire per conto dei minori? Beh, mi spiace dirlo, darò una grossa delusione a molti, ma penso che il modo migliore sia il buono postale per i minori. Esatto, avete capito bene, è alla fine il modo migliore. Andiamo a vederlo direttamente sul sito di poste. Eccolo qui. Buono dedicato ai minori. Ogni occasione buona per regalare un buono. Ecco qui il minore che sta all'accremente studiando. Poi voi avete mai guardato dentro un microscopio voi? Cioè a meno che non sia un microscopio forse di quelli professionali, non si vede una beata fava. Ok, ho guardato dentro più di un microscopio di quelli amatoriali, oltre ad avere tutte le ciglia in mezzo. Benissimo. Il buono cresce insieme al minore, ok. Come funziona? Funziona che voi acquistate questo buono, ci cacciate dentro dei soldi, e attenzione perché dal punto di vista formale, dal punto di vista formale, voi state acquistando il buono e donandolo al minore. Non state dando i soldi al minore il quale acquista il buono, cioè il buono lo acquistate voi, quindi funziona. Funziona solo per questo, perché voi state praticamente donando al minore il buono, e quindi il minore giustamente accetta, perché sono dei soldi che gli entrano. Emesso da cassa depositi e prestiti garantiti allo Stato italiano, come ogni buona tradizione, tassato in maniera agevolata al 12,5, esente da imposto di successione, vabbè ma è per il minore, ok. E nessun corso di sottoscrizione e rimborso, ok, a posto. Tutti, quindi qualunque maggiorenne, può regalare questo buono. Vediamo a chi si può regalare, se abbiamo degli aiuti. Ecco qui. Si può regalare a qualunque minore, e il rendimento del buono dipende dall'età del minore, meglio, non dall'età, da quanto tempo il minore lo possiede. Se lo regalate a un bambino appena nato, ecco qui, lo possiederà per 18 anni, quando diventa maggiorenne il buono scade, e otterrà il 6%. Qui questa tabella è estremamente forviante. Poste italiane, per favore, si può cambiare lo stagista che fa queste tabelle? Perché l'abbiamo già trovata altre volte, ed è una tabella forviante, perché io leggo periodo di possesso e rendimento effettivo annolordo alla fine di ciascun periodo di possesso, e mi viene da pensare che i primi due anni mi renda il 3, dopodiché mi renda il 4, e invece non è così. No, non è così. Se io lo tengo 12 anni, mi rende il 4 su tutto il periodo, non solo sul periodo che va dall'undicesimo al dodicesimo anno. Invece, per come è fatta la tabella, chiunque si interessi di finanza, quasi chiunque, perché poi mi scriverà il pignolazzo, quasi chiunque si interessi di finanza potrebbe intuire che invece renda il 4 solo al dodicesimo anno, il 3 e mezzo all'undicesimo. No, non è così. Se tu lo tieni 12 anni, ti rende il 4 ogni anno. Se tu lo tieni 17 anni, ti rende il 6 ogni anno. E siccome so già che non mi credete, poi scrivete sotto, e si informi. Facciamo la verifica. Simula. Ok, mi informo allora. Quelli che scrivono si informi vengono bannati, e poi non chiedetevi se... È una cosa che odio. Perché non ci si informa, si guardano le leggi e i fogli, non si chiede in giro. Scegli data. Quindi oggi è il 19-12-2023 quando registro, e quindi il pargo non nasce oggi. Quindi lo tiene 18 anni di sicuro. Simula. Ho preso 1000 euro, ma forse... Con 1000 euro viene questa cifra qui. Ok. Adesso guardiamo. 1000 per, aperta parentesi, 1.06 alla 18. Chiusa parentesi. Uguale. Ok. Ci sono le tasse però. Meno 1000. Devo pagare le tasse. Per 0.875. Ho pagato le tasse. Ci rimetto i 1000. Ok. 2622. Voi direte, ma qui c'è scritto 2598. Quei 4 euro potrebbero essere o il fatto che io l'ho fatto nascere quando? L'ho fatto nascere oggi, quindi sta un giorno in meno in realtà. Quindi sta 17 anni e 364 giorni. Quindi potrebbe essere quello. Oppure il fatto ci dovrebbero essere delle imposte di bollo. le imposte di bollo potrebbero essere? Ok. Comunque, sicuramente non è e quindi manca un quanto. Vediamo quanto manca. Meno 2598.41 mi mancano mi mancano un 24 euro. Ah, però. 24 euro potrebbero essere le imposte di bollo? 1000 per 0.002 per 18 36 euro. Potrebbero essere. Ma potrebbe essere anche la questione che manca l'ultimo giorno. Comunque, sicuramente non rende torniamo indietro. sicuramente non ha reso il 3, 3, 3, 3, 3 all'inizio perché altrimenti sarebbe stato molto molto meno. Quindi, diciamo, dovrebbe rendere il 6% per tutto il periodo. Quindi se lo regalate, perché questo è quello che fate, lo regalate a un minore che ha 0 o 1 anno, vi rende, e questo qui lo tiene fino a 18 anni, perché ci sono anche dei rarissimi casi in cui si può tirare fuori, ma qualcuno dice con l'autorizzazione del giudice. Anzi, andiamo a vedere il foglio informativo se lo troviamo. Eccolo qui. Foglio informativo e tassi. Eccolo qui. È possibile richiederne l'estinzione anticipata, però nel caso in cui l'intestatario al momento della richiesta di rimborso risulti ancora minorenne, siccome sta chiedendo un disinvestimento, quindi un'operazione straordinaria, giustamente possono essere rimborsati solo in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare, quindi non è il genitore che può chiederlo. In questo caso, però, il povero minore se la prende nel di dietro perché, guardate i tassi di interesse, 0,50. 0,50 fisso, tra l'altro, vedo qui. mi piace perché tasso nominale non ha l'ordo 0,50, l'ordo 0. Un giorno lo capirò. Ok. 0,50, quindi, quindi non prende quello che è promesso, invece, per il rimborso alla maggior età. L'imposta di bollo segue le solite regole e la regola è per tutti i buoni fruttiferi postali. se eccedono i 5.000 euro di buoni, tutti compresi, quindi qualche parente potrebbe farvi pure lo scherzone, cioè voi avete 4.950 di buoni postali, non pagate l'imposta di bollo e il parente vi fa lo scherzone, vi dà un buono da 50 euro e vi costringe a pagare l'imposta di bollo su tutto. Oh, che tazzo, questa cosa è veramente strana, effettivamente. Ah no, non superiore, quindi se avete 5.000 e qualche parente vi fa lo scherzo e vi dà 50 euro in più, ecco che ci pagate l'imposta di bollo. Ok, quindi se sono esenti se tutti buoni del minore non superano i 5.000 euro e siccome so che vi piace, anche se non serve assolutamente a niente, andiamo a fare il conto con la tabella Excel che poi vi lascio. Ora, qui mi sono copiato banalmente quello che dicono le poste, ok, investito, prendiamo 10.000 euro, ok, dopodiché la data di nascita mettiamo per semplicità 1.1.2024, la data di sottoscrizione mettiamo la stessa, ok, l'uscita, l'uscita avviene al compimento del diciottesimo anno, quindi creiamo una data che ha esattamente uguale a quale nascita più 18 anni, quindi si fa così, ci sono tanti modi per farla, nessuno è semplice, ok, questo è quello più semplice forse, o meglio quello più sicuro, ok, ho aggiunto 18 anni, ok, età all'ingresso, abbiamo, ringraziamo la funzione yearfrack che non so come si dica in italiano, e 2, punte virgola, ok, dovrei mettere la data di uscita, o meglio, scusate, la data di sottoscrizione, che è questa, il problema è che magari qualcuno mi fa lo scherzetto e mette una data di sottoscrizione prima la data di nascita, allora per sicurezza ci metto un max tra la data di nascita e la data di sottoscrizione, cioè si può sottoscrivere soltanto a figli già nati, ok, actual, actual, vuol dire che questo qua mi calcola quanti anni, però, e usa i giorni giusti dell'anno, non qualche strana formuletta di accounting, ok, in questo momento chiaramente 0000, anni 18 meno e 5, ok, ci sta dentro, quanti anni, intendo quanti anni sta nel, nell'investimento, in questo caso 18 anni, vedete, se io metto un bambino che è nato prima, ad esempio nel 2020, ecco qui, scade un po' prima, è l'età di ingresso 4 anni, ok, se metto 6, ecco qui, mette, inizia a inserire tutti i numeri frazionali, non garantisco che il mio foglio funzioni anche con i numeri frazionali, ok, benissimo, ricavo l'ordo, uguale, questa cifra qui, quanto è investito, per, allora, dobbiamo andare a prendere il tasso di interesse giusto, usiamo il solito index match, index, lo prendo da qui, ok, poi, match, cerco questo valore qui, in questa colonna qui, e lo cerco che sia minore o uguale, il più grande che è minore o uguale, ok, e questo è il numero giusto, attenzione, perché ci devo mettere un 1 più, ovviamente, il tutto capitalizzato per il numero di anni, quindi alla 18, a posto, ovviamente c'è qualche errore, l'errore sbagliato, qualcosa, qualcosa, qui ci manca una parentesi chiusa, ok, mettiamolo in un formato più civile, 24.540, sembra una figata totale, in realtà è un 6% per 18 anni, considerate che l'inflazione potrebbe essere del 2, e quindi insomma, è un 4%, c'è la tassa però, 12.5%, per, attenzione, per questo, meno questo, il guadagno, eccola qui, anche questa la mettiamo in un formato più civile, ricavo netto, questo, meno questo, il bollo, e io so già che qui, io di solito il bollo non lo considero mai, perché? Perché tanti soldi comunque da qualche parte stanno investiti, però so che voi ci tenete particolarmente che questa roba inutile del bollo venga considerata, inoltre so già che i pignolazzi sono in agguato, e se io non metto la regola che sotto i 5.000 euro non paga il bollo, quindi, uguale, if, eh no, scusate da qui, uguale, se, io ce l'ho in inglese, Excel, ve ne dovete fare una ragione, se questa cifra qui è maggiore di 5.000, allora, si paga il bollo, quindi è E1 per 0,2% per E6, altrimenti non si paga, e anche qui so già che siete già in agguato, pronti con le mani sulla tastiera per dirmi che il bollo si paga ogni trimestre imposta, io invece qui lo sto facendo pagare ogni anno e poi è giunto a tutto alla fine, invece in realtà si pagherebbe ogni trimestre, quindi io dovrei andare a guardare esattamente a che punto del trimestre è iniziato, se ad esempio inizia che so il 27 marzo paga immediatamente il bollo, è un caso sfortunato, quindi dovrei andare a farmi questo studio qui, ve lo dico subito non ci penso nemmeno, vi beccate questa formula approssimativa sbaglierà di 1 euro forse, perché il bollo in realtà in posta si pagherebbe trimestralmente e dello 0,2% diviso 4 e quindi se entri ad esempio il 30 marzo sei sfortunato perché paghi subito il bollo, ok, mi rifiuto categoricamente, quindi in questo caso si pagano 360 euro di bollo, ricavo nettissimo questo meno questo ok, perché mi segna errori lì non lo sa nessuno ok, poi tier uguale ricavo nettissimo diviso totale investito ok, bisogna annualizzarlo non si annualizza così diviso 18 vediamo, vediamo facendolo così cosa viene 14,37 ma mi spiace si annualizza così alla 1 diviso 18 meno 1 5,42 ok, beh, come ci aspettavamo è praticamente il 6 meno le tasse vediamo se giusto per curiosità ecco qui vediamo 6 per 0.875 5,25 un po' di più del 6 meno le tasse devo dire chissà da dove vengono fuori gli altri soldi il mistero delle poste chi ha seguito il mio corso lo sa da dove vengono vengono dall'interesse composto ovviamente e questo qui si cumula man mano va bene e a posto direi che ci siamo abbiamo il simulatore punto fatto ora vi piacerebbe vedere il grafico il grafico quant'è com'è questo tier è irrilevante rispetto a questo vediamo se io metto 6.000 dovrebbe essere la star cifra si se io metto però 5.000 no un pelo più alto infatti va 5.50 perché non si paga non si paga il bollo ok ci piacerebbe però vedere come varia a seconda dell'età di ingresso allora intanto ci facciamo quello che è la data table mettiamo qui tutta una serie di età di ingresso 0,0 0,1 0,2 e così via fino a 18 chiaramente tranquilli non vi tedio scrivendole tutte facciamo così 17 7 fermiamoci a 17 9 ok mettiamoci tutti una cifra decimale ok ok a posto qui uguale questo qui mi insegna a fare anche le data table questo non serve che sia in rosso ok benissimo e per fare la data table io praticamente intendo far modificare questo anni e fargli assumere tutti questi valori e voglio ottenere i corrispettivi valori qui potrei scrivermelo anche con una serie di formule però è più comodo farlo con la data table l'unico problema è che la data table funziona solo se qui c'è un numero e non una formula vedete io qui ho la anzi scusate invece di usare anni in cui stai dentro al fondo che in fondo ce l'abbiamo qui sarebbe bello mettere l'età all'ingresso quindi questa è l'età all'ingresso da 0 a 17,9 e qui però dovrei avere un numero in una formula quindi per il momento se non vi dispiace mi copio questa formula me la metto qui commentata come commento così poi non la perdo e qui ci metto un numero in questo caso 0 scrivo proprio 0 a mano a questo punto seleziono tutto io sto facendo tutti i passaggi perché me l'avete chiesto voi mi ha detto mi piace vedere quando fai i passaggi e vado su data what if analysis in italiano non so come sia data table ok error input cell niente invece la colonna nella colonna quindi nella colonna in questo caso nella colonna io voglio avere e 5 3 2 1 via ecco fatto mettiamo tutto in formato percentuale ok beh ovviamente è nulla di nuovo rende il 5,4 se il bambino è abbastanza piccolo poi salta al 4,45 quando il bambino inizia ad essere un pelo più grande 4,44 chissà perché probabilmente è una questione di bolli qui 3,49 e così via ok grafico insert grafico grafico direi che il più adatto è questo eccolo qui guardate che bello move chart new sheet eccolo qui via questo che non serve a niente eccovi qui a seconda dell'età quanto vi ha reso questo investimento quindi se il bambino è piccolo rende bene dopodiché crolla 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 qualora vi venisse un dubbio che è quello che è avvenuto a me adesso ho interrotto il video apposta voi non mi siete d'accordo perché ho messo un taglietto e qualora venisse il dubbio perché il salto qui c'è a un anno e non a un anno e mezzo nonostante qui ci sia un anno e mezzo e no non è così che funziona e è da questo lato che dovete guardarlo cioè un bambino un bambino di un anno un bambino di 0 anni resta 18 anni un bambino di un anno resta 17 anni un bambino di un anno e un giorno resta 16 anni cioè non arriva a restare 17 anni e quindi questo potrebbe darvi la falsa idea che fino a un anno e mezzo rende il 3% no dovete guardare dall'altra cioè questi quanto resti nel fondo quindi fino a un anno rende il 6% se già il bambino ha un anno e un giorno rende il 5% l'ordo e qui si vede che a un anno a un anno esatto spaccato rende ancora il 5% a un anno 1% rende il 4,45% quindi attenzione perché questa tabella è ingannevole va guardata alla rovescia quindi questa è l'età del bambino chiamiamolo bambino qui del bambino quando rente se il bambino è un bambinone già di 17 anni potete tranquillamente non fare questo investimento perché chi arriverà non meno soldi pagherà solo i bolli praticamente tra bolli e tasse qui non vedo grossi rendimenti vabbè sì ecco perché anche ecco qui se il bambinone se ci sta meno di un anno e mezzo non c'è verso il bambinone di 16 anni è l'unico l'ultimo che rende qualcosa allora è un buon investimento sì o no ma diciamo per bambini piccoli rende tanto un 5 e mezzo netto anche un 4 e mezzo netto su una cosa che di fatto è un'obbligazione rende tanto il problema è che per bambini piccoli state bloccando un investimento per 17 16 15 anni che è tantissimo però devo dire che ha dei dei un rendimento 5% netto e a pari delle azioni quindi per bambini piccoli è uno strumento secondo me che ha perfettamente senso diciamo che già quando il bambino diventa grandino vedo qui dai 2 anni ai 6 anni rende un 3% e dai 2 anni ai 6 anni vuol dire un investimento vincolato per più di 10 anni a quel punto un investimento azionario rende decisamente di più e tra i 6 e i 10 rende il 3% anche qui però è vincolato quasi 10 anni dopodiché cala e soprattutto non fatelo per nessun motivo oltre i 16 anni e mezzo basta si chiude baracche e burattini non si fa più per nessun motivo perché a quel punto non rende non rende proprio rende ufficialmente zero il grosso vantaggio di questo investimento è che è un investimento che è effettivamente intestato al minore cioè è suo perché vedremo poi altre forme che non sono effettivamente intestate al minore ma in questo caso è molto importante che sia suo quindi è al riparo da eventuali disastri che fanno i genitori che potrebbe essere dal genitore impazzito che so che è diventato inizia a spendere spandere o il genitore che ha dei debiti e il cui creditori quindi aggrediscono il patrimonio familiare mentre questa cosa qui è inaggredibile chiaramente perché è di proprietà del minore e il minore è davvero difficile che abbia dei debiti quindi il suo grossissimo vantaggio è che è un investimento del minore rende anche bene per minori piccoli fino a due anni mi sento di dire che rende proprio bene dopo già inizia a essere messo in dubbio dall'azionario anche se i suoi problemi sono che è vincolato per tantissimo tempo uno e due non dimentichiamo che è un investimento di poste italiane e voi direte ce l'hai con poste? ah non io però le persone che hanno fatto investimenti con poste italiane si sono reso conto che non è che tu vai lì schiocco di dita e ti arriva il cash in mano oppure ti arriva un comodo bonifico sul tuo conto bancario no 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 way se hai il conto banco posta allora a posto quindi se sei è un po' come l'apple se sei nel suo ecosistema tutto a posto tutto funziona se sei hai un piede lì e il corpo dall'altra parte è un po' un casino spostare i soldi mi dicono tra i vari sistemi il comodissimo vaglia postale esiste ancora io ci ho attaccato un vaglia con la colla sul mio quaderno delle medie assieme all'assegno e la cambiale erano i tre sistemi di pagamento dell'epoca ci può fare un comodissimo vaglia postale oppure ritirarlo in contanti ma a tranche di non so quanto oppure bisogna proprio avere il conto banco posta in quel caso diventa tutto più semplice quindi sappiate che se il minore è diventato maggiorenne sarà nell'ecosistema a posto tutto a posto se non sarà nell'ecosistema a posto soffrirà un po' a recuperare questa cosa anche perché devi andare con le tue gambine direttamente all'ufficio postale quindi se il maggiorenne a quel punto è a Sydney che fa il trader e nel tempo libero si dedica alla pesca d'altura deve prendere l'ero e andare a Sydney e andare all'ufficio di Pioltello per recuperare il buono postale passiamo ad altri tipi di investimento per minore ce n'è uno che è relativamente diffuso e sono le assicurazioni a nome del minore dove a nome vuol dire che il contrarente è un maggiorenne e il minore ne è il beneficiario tipicamente è legato anche a un caso morto del maggiorenne ora in generale ve lo dico proprio chiaramente le assicurazioni che contemplano il caso morte non hanno quasi mai senso punto c'è un solo caso in cui le assicurazioni sulla vita hanno un senso ed è il caso in cui le persone atteccare anzi due casi il primo è il caso in cui le persone atteccare dipendano dal tuo reddito e non dal tuo patrimonio perché se dipendono dal tuo patrimonio che te frega lo ereditano ok quindi l'unico caso in cui le persone atteccare dipendono dal tuo reddito e tu non hai un buon patrimonio può essere ad esempio una persona che ha appena iniziato a lavorare lavora guadagna bene ma ancora non ha messo soldi da parte in quel caso assicurazione sulla vita senza dubbio in questo modo ah e le persone atteccare non sono in grado di badare a se stesse in maniera autonoma ok in quel caso assicurazione sulla vita senza dubbio ma assicurazione sulla vita seria cioè che contempli parecchio indennizzo in caso morte l'altro caso è quello in cui si vogliono lasciare soldi a persone che normalmente non erediterebbero da te ok quindi che non siano i parenti l'inaretta o le persone che hanno diritto alla legittima quindi volete lasciare soldi di fatto di fatto è una sorta di testamento ma a persone che normalmente non erediterebbero e che non volete magari che appaiano esplicitamente sul testamento non vogliono fare relazioni su quali persone in questi casi effettivamente la polizza caso morte ha senso in tutti gli altri casi non ha nessun nessun senso e io devo dire onestamente tutte le volte che vedo polizze che contemplano il caso morte non ha proprio nessun senso di esistere ecco è abbastanza comune fare una polizza vita o una polizza a forma di investimento che contempli anche il caso morte e che sia intestata al minore tipicamente il proprio figlio quindi il proprio figlio in caso di morte percepisce una somma questa somma può essere o banalmente quello che hai messo di solito non è mai una somma grossa quindi il caso morte è messo lì solo per pro forma perché di fatto non è il fulcro della questione la polizza vita è associata a una gestione patrimoniale cosa vuol dire voi ci mettete i soldi i soldi vi vengono depennati in parte per i costi di ingresso nella polizza vita quindi già subito partite male perché partite con meno soldi investiti perché depennati all'inizio è molto peggio che depennati alla fine ok quindi in questa gestione patrimoniale entrano meno soldi questa gestione patrimoniale dipende dal tipo di polizza può essere una gestione patrimoniale aggressiva che ha senso per polizza lunga durata che investe quindi in azioni o una gestione patrimoniale molto meno aggressiva che investe di solito in buoni del tesoro oppure in obbligazioni sicure e che quindi ha i suoi piccoli rendimenti ora considerate questa gestione patrimoniale ha un alto costo quindi voi avete pagato il costo della polizza quando avete messo i soldi dentro ogni volta che mettete i soldi dentro dopodiché pagate il costo della gestione patrimoniale e se la gestione patrimoniale è una gestione aggressiva di solito se è una gestione tranquilla investe in titoli di stato e non ha grossi altri costi se invece è aggressiva investe di solito in fondi i quali hanno degli altri costi questa volta perfettamente nascosti perché i fondi hanno i costi hanno i costi che sono dichiarati sul fondo ma la gestione che compra i fondi tu non li vedi perché sono inclusi nel prezzo ok ecco quindi come avete capito dal fatto che ho utilizzato la parola costo almeno 17 volte in una frase questo prodotto è un prodotto molto costoso difficile che renda bene molto difficile che renda bene sicuramente rende peggio degli investimenti fai da te rende decisamente peggio proprio per un motivo matematico c'hai dei costi sotto e anche in caso di gestioni patrimoniali aggressive il gestore non ha la palla di cristallo e anche se ce l'avesse tu non sai quale dei gestori ce l'ha e quindi non sai in quale investire quindi non aspettatevi dei rendimenti da questi sarà grasso che cola se riuscite a portare a casa il capitale io in questi casi valuterei se non fosse più semplice far aprire al minore un conto corrente e versargli direttamente anche una cifra ingente sul conto corrente cifra ingente che il minore non potrà toccare perché è una cifra ingente o meglio potrà toccare in piccoli pezzi ma non in grossa quantità e forse più o meno il rendimento potrebbe essere simile come esempio di prodotto assicurativo di questo tipo e ce n'è uno specifico per i minori questa volta ancora di post devo dire che post italiane ne capisce l'ufficio marketing di post italiane meriterebbe una medaglia assieme all'ufficio marketing di quelli che hanno tirato fuori i BTP valore un BTP assolutamente normale ma spacciato come la cosa più ficca del mondo anche l'ufficio marketing di post assieme a quello del ministero merita una medaglia perché fanno prodotti veramente diciamo attraenti e ogni tanto anche competitivi andiamo a cercarlo eccolo qui post a futuro da grande con tanto di foto del bambino e il nonno poi devo dire azzeccatissimo io se dovesse assumere qualcuno strumerei lo stagista di post italiane che fa questa pagina non quello che fa quell'altra ok a favore dei più piccoli riscatto di qua di là di su di giù ora io non entro nei dettagli di questo prodotto perché mi spiace per voi dovete aspettare ve lo faccio uscire in un altro video apposta che è il linko qui se non lo vedete apparire è perché il video non è ancora uscito probabilmente uscirà tra qualche giorno rispetto all'uscita di questo quindi uscirà questo è un video espressamente dedicato a questo prodotto in cui faccio anche delle simulazioni dei conteggi eccetera eccetera comunque questo ve lo dico non non è non è l'invenzione del secolo è è una polizza assicurativa come tutte le altre quindi ha sotto una gestione patrimoniale che investe in buoni del tesoro molto standard con i costi belli grossi però che alla fine qualcosa a casa vi portate di solito soprattutto molte di queste polizza hanno almeno la garanzia capitale garantito che è è la garanzia materasso cioè la garanzia se i soldi li avessi messi sotto il materasso questo è quello che avresti portato a casa ok quindi dovete attendere per questo prodotto per un'analisi specifica su questo prodotto di poste non volevo gonfiare questo video pieno di prodotti di poste anche perché non mi danno una lira poste almeno un po' di soldi per le analisi grazie passiamo a un altro prodotto che è il fondo pensione intestato al minore esatto il fondo pensione o pensione a seconda di dove abitati in Italia può anche essere intestato al minore quindi il genitore paga il genitore paga questo fondo pensione aperto ovviamente perché il minore mi aspetto che non abbia un suo fondo di categoria dovrebbero fare il fondo di categoria scolari delle elementari fondo di categoria medie e superiori sarebbe un successone e mi aspetto che e dove la scuola ci mette una percentuale come se avesse abbastanza soldi da buttare ok chiaramente un fondo pensione aperto il genitore ci mette dei soldi per conto del minore qual è il vantaggio il vantaggione è che il minore risulta quindi scritto al fondo sin dalla tenera età di ipotizziamo dieci anni voi sapete che i soldi messi nel fondo pensione sono tassati tra il 9 e il 15% perché molte persone pensano che non siano tassati no sono tassati tra il 9 e il 15% quando li recuperi dove tra il 9 e il 15 dipende da quanti anni sei rimasto nel fondo ora se ricordo bene dovrebbe essere fino a 15 anni il 9 dopo decresce dello 0,3 ogni anno tipo e comunque arrivati a 35 anni basta 6 anni scusate scusate fino a 15 anni il 15 dopodiché decresce dello 0,3 all'anno arrivati a 35 anni basta lì è il 9 fisso ora il bambino entra a 10 anni vuol dire che già a 45 anni lui avrà la tassazione al 9 al minimo se nel frattempo non sono cambiate le leggi e quindi gli state dando un grosso vantaggio ma gli lo state dando un po' in anticipo onestamente se lui invece che entrare a 10 anni fosse entrato nel fondo pensione a 30 a 65 aveva già la stessa lo stesso trattamento fiscale su tutto ma poteva entrarci anche a 35 a 70 aveva già lo stesso trattamento fiscale vi do la triste notizia che un bambino di 10 anni adesso penso proprio io sarò morto ma poi ditemelo scrivetelo sulla tomba aveva azzeccato la previsione un bambino di 10 anni adesso va in pensione andrà in pensione a 80 anni quindi potrebbe tranquillamente anche entrare nel fondo pensione a 40 50 60 75 e a 75 ha già maturato l'aliquota minima quindi è una cosa che non serve gli dà un vantaggio ma glielo dà troppo presto non serve non serve che abbia già a 35 40 anni no a 40 45 anni l'aliquota minima può averla tranquillamente verso i 70 a 75 tanto in pensione sicuramente a 40 a 45 non ci va ma il vero grosso vantaggio è che i genitori non pagano le tasse su quei soldi e questo è un buon vantaggio facciamo due calcoli eccolo qui il foglio no questo qua è il coso sbagliato prendiamo il fondo eccolo qui benissimo allora apri allarghiamo per chi guarda da smartphone quanto avrete passato nel fondo 5000 facciamo perché di solito 5000 è il massimo detraibile attenzione che se versate nel fondo anche per conto vostro temo che la detraibilità sia una sola ok facciamo delle ipotesi su quanto rende il fondo netto ora io mi sbilancio in un ottimistico 3% io spero che scegliate almeno un fondo aggressivo capro c'è davanti 60 anni 70 anni qui vediamo quanto renderebbero i soldi se voi invece di metterli nel fondo li aveste investiti per conto vostro ora 4% mettiamo l'aliquota io per vostra perché voi non pagate le tasse su quanto mettete su questi 5000 voi non ci pagherete le tasse mentre se li investite per conto vostro ci pagate le tasse e questo è molto impattante quindi io adesso metto l'aliquota peggiore la 43% quindi vuol dire che avete redditi sopra i 50.000 euro mi sembra però può darsi che per molti di voi sia un'aliquota minore non so quelle minori sapete io quelle aliquote minori sono anni e anni che non le pago sto scherzando ho pagato anch'io le aliquote minori ci sono aliquote minori chiaramente dopo vedremo un po' di differenze 9% la tassa che pagherà il minore in futuro su quanto ha versato e per quanti anni ci sta dentro ora supponiamo una persona che entri dentro a 10 anni cioè il bambino ha 10 anni e supponiamo che per un caso fortunatissimo vada in pensione a 75 io lo dubito però quindi ci sta dentro 65 anni ok benissimo qui mettiamo quanto si troverà il minore ormai il vecchietto quando andrà in pensione si troverà nel caso del fondo si troverà questo perché nel caso del fondo entra senza tasse è esentasse quindi si troverà esattamente questo per 1 più questo alla 65 ok a questo punto però deve pagare le tasse perché ripeto contrariamente a quello che si pensa si paga le tasse le tasse le paga però su questi 5000 quindi meno 5000 per 9% è irrisorio è questo adesso vedrete subito è 33.700 quindi il fatto che lui paghi il 9% di 5000 è veramente irrisorio vediamolo 34 33 quindi sono quanto è 34 è quanto ok sono 400 euro di tasse su 33.000 euro quindi è veramente irrisorio ok è molto più impattante eventualmente le tasse sui guadagni che però sono già considerate perché ho scritto netto netto qui vediamo se invece la persona investe di tasca propria allora attenzione perché qui non riesce a investire tutti i 5000 perché ci deve pagare l'Iropef quindi 1 meno questo ok quindi io ci tolgo l'Iropef e riesce a investire soltanto 2850 e qui prevengo subito l'obiezione che mi arriva sempre quando parlo di fondi pensione molti di voi sono erroneamente convinti che gli entri la differenza cioè che la differenza quindi in questo caso sono i 2150 euro di tasse gli entri in tasca no non ti entra in tasca semplicemente non le paghi voi li vedete entrare in tasca perché il datore di lavoro ha sbagliato i conteggi e quindi nel 730 successivo vi rientrano però è perché li avete pagati prima ingiustamente voi non li vedete cioè non entrano in tasca semplicemente non venite tassati e il fatto che non venite tassati è già e l'ho messo praticamente qua dentro col fatto che vengono investiti tutti i 5.000 mentre qui non vengono investiti tutti i 5.000 ma vengono investiti i 5.000 defalcati delle tasse ok quindi ripeto molti di voi mi pretenderanno che io qui ci metta da qualche parte qui magari il fatto che ho 2150 euro di tasse in meno no non è così sono già indicate qui per il fatto che hai pagato perché non è che tu ti arrivano dei soldi no semplicemente se non fai il fondo pensione paghi più tasse ed ecco qui le tasse pagate ok questa cifra qui viene investita al tuo rendimento tuo netto per un numero di anni pari a 65 non devi pagare nessuna tassa poi la tassa sugli investimenti è già inclusa nel fatto che questo è netto non devi pagare nessuna tassa dopo perché l'hai già pagata prima pagare prima è molto più svantaggioso oltre al fatto di avere un'aliquota mostruosa un 43% ed ecco qui il risultato come vedete il fatto che questo è la differenza iniziale è mostruosa perché è 5000 contro 2800 quindi parte veramente con praticamente la metà dei soldi ciò nonostante l'un per cento di differenza che capitalizza 65 anni si è mangiato tutta la differenza ora chiaramente dipende da quanti anni sono ora stiamo parlando di minori in questo video se volete vi lascio linkato qui il video con un calcolo molto più dettagliato se conviene o non conviene il fondo pensione è estremamente più dettagliato ed è fatto per se stessi quindi non con 65 anni qui gli anni sono tanti necessariamente possiamo fare 60 con 60 anni ecco il tuo investimento rende solo 1000 euro in più con 70 che sarà un'età plausibile di pensione per una persona che adesso ha 10 anni ecco che il tuo investimento si mangia 5000 euro in più dell'investimento fatto tramite il fondo chiaramente ipotizzando un 1% di differenza torniamo a 65 anni e so già che beh facciamo anche 70 perché magari non so volete aprire un fondo pensione per un bambino di 5 anni quindi minimo 70 anni ma anche 75 temo eh 5 anni 75 o 70 ora so già che vi chiederete quant'è la differenza che mi rende questi due uguali beh potrei farlo in maniera automatica ma invece la facciamo a manina 3.8 penso che già si rendano uguali sì 3.9 no 3.8 3.85 3.83 ecco 1.0.8 quindi se voi siete in grado di far rendere 1.0.8 in più i vostri investimenti netti rispetto al rendimento netto del fondo non è difficile non è per niente difficile e già ci guadagnate andate a pari se voi fate il 1% come vedete su 70 anni andate direttamente in guadagno dipende da questo parametro qui e da questi due parametri qui non dipende da quanto avete versato chiaramente ah e dipende moltissimo la liquota europe se la liquota europe invece che essere il 43% è meno eh già ad esempio non so neanche le liquote europe confesso andiamo a cercarle ecco qui buon google mi dice che la liquota europe inferiore è 35 25 23 quindi ecco qui 35 vedete qui esplode 25 esplode ancora di più ancora se rendono lo stesso non vi conviene ma già con un 3 e mezzo qui non c'è stonga e torniamo a 35 quindi dipende molto da liquote dai parametri in gioco dipende molto dalla differenza tra questi due dalla vostra liquota europe e dagli anni ma gli anni per un minore è abbastanza indifferente se aggirano sui 60 70 quello potete starne praticamente certi ecco qui quindi il fondo pensione è un buon investimento per il minore ma ni ni gli date del rendimento perché a 50 60 anni gli date del rendimento sicuri gli state dando però anche un peso sul gruppone perché questo povero minore per tutta la vita dovrà tenersi nel suo faldone di carta che poi magari tra 10 anni non esisterà più saranno vietati i documenti di carta tra 30 anni magari nel suo faldone dovrà tenersi la nota attenzione ricordati quando vai in pensione di ritirare i soldi dal fondo ora magari continuerà con quello e allora sei a posto ma magari non continuerà con quello andrà fuori dall'Italia e a differenza dei prodotti precedenti quindi gli state dando una cosa che a 18 anni chiude baracche e burattini è finita gli state dando una cosa che a 70 anni chiude baracche e burattini vero che dal fondo si possono tirare fuori i soldi per ogni scusa buona per tirare fuori i soldi c'è un elenco di scuse valide per tirare fuori i soldi però insomma gli state dando un'incombenza veramente veramente a lungo termine io non so forse avrebbe preferito i soldi subito non per usarli ma anche per una semplicità di gestione però in fondo è una cosa intestata al minore e che rende bene beh bene sempre meno di un investimento fatto direttamente in un ETF azionario da te perché l'altra soluzione possibile adesso analizziamo una nuova soluzione è quella ed è quella più classicamente utilizzata il genitore si rassegna si rende conto che non può dare dei soldi al minore e obbligarlo a comprare un ETF azionario e compra un ETF azionario per conto proprio tenendo i soldi diciamo moralmente per il minore ora questo investimento è senza dubbio il più redditizio a 20 30 anni è il più redditizio batte tutti gli altri anche il buono postale per i minori senza dubbio fatemi pensare anche su quello 5% 18 anni 5% netto su quel 5% netto dipende un po' da come vale il ETF azionario però potrebbe 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 battere anche il buono postale per i minori nel caso in cui renda il 5% oltre il 5% netto potrebbe non è detto comunque il genitore si compra il suo bel ETF mondiale o il suo portafoglio di ETF azionari e li investe lui a nome del minore i genitori più precisi addirittura aprono un conto con un conto titoli apposta in un'altra banca ad esempio e lo aprono sempre a nome proprio perché non possono aprirlo a nome del minore e moralmente dicono questo è tutto suo è chiaramente si tratta soltanto di un moralmente perché perché se per caso il genitore viene a mancare quello va tutto nell'asse ereditario e quindi c'è un poco da fare il minore si trova quell'investimento nella sua quota a meno che non si faccia testamento in cui si lascia espressamente quell'investimento al minore e chiaramente agli altri reddi legittimi bisogna lasciare importi di pari valore o insomma per rispettare le quote legittime quindi in questo caso magari consiglierei anche un testamento olografo pezzo di carta data interamente scritto a mano e firmato dalla persona in cui lascia espressamente questo investimento al minore e chiaramente bisogna stare attenti a non ledere le quote di legittima degli altri eredi legittimi quindi di solito gli altri figli moglie e in certi casi dipende ci sono certe combinazioni la legge prevede tutte le combinazioni potete googlarvelo a piacere questo è il primo problema il secondo problema sono eventuali creditori se la persona ha dei creditori che iniziano ad aggredire il suo patrimonio e faccio notare che i creditori che aggrediscono il patrimonio si può essere che tu fai i debiti ma può essere anche che ti trovi dei debiti boh magari hai fatto un grosso sbaglio hai accettato un'eredità e ti scopri che quell'eredità era piena di debiti quindi non è necessario che tu sia un imprenditore e faccia debiti puoi anche essere un pinco pallino qualsiasi hai per sbaglio accettato un'eredità ed ecco che ti aggrediscono oppure ti aggrediscono nel senso che ti aggrediscono il patrimonio oppure che so c'è arrivato è arrivato un tizio che giura di avere un foglio firmato da te in cui gli devi 50.000 euro e anche un buon motivo per farlo e 12 testimoni ecco che insomma ci possono essere dei casi in cui il tuo patrimonio viene o hai fatto un grosso incidente e ti sei accorto che non avevi rinnovato l'assicurazione e sono passati 15 giorni e quindi sei pure scoperto ecco ci sono dei casi in cui anche un pinco pallino qualsiasi potrebbe essere aggredito il patrimonio in questo caso non vale dire è moralmente di mio figlio no non vale per poterlo fare ci servirebbe una donazione fatta con atto pubblico registrata pure per essere opponibile ai terzi quindi ci sono questi due problemi sono due problemi che capitano estremamente di rado quindi io onestamente mi sento di dire che questa è forse la soluzione migliore tranne forse nel caso in cui il bambino abbia meno di un anno e mezzo nel qual caso forse meno di un anno forse nel qual caso la soluzione migliore potrebbe essere il buono postale però qui senza dubbio la soluzione migliore arrivato a 18 anni il genitore può disinvestire e dare direttamente i soldi al minore senza troppi problemi però è da sottolineare molto che questo è un investimento del maggiorenne non è un investimento del minore io quando sento dire sono soldi di mio figlio non è vero sono soldi tuoi non sono soldi di tuo figlio ok passiamo un'altra categoria particolarmente bizzarra e sono gli oggetti regalati al minore potete regalare al minore degli oggetti di grosso valore tra l'altro tecnicamente il minore essendo oggetti di grosso valore non potrebbe neanche rivenderli o liberarsene o neanche regalarli a qualcuno senza l'autorizzazione del giudice quindi siete sicuri che siano suoi vabbè ora il più classico classico è l'oro gli si regala a parte che al minore di solito vengono regalati braccialetti orribili braccialetti e collane d'oro che il minore appena compiuto i 18 anni andrà nel più vicino compro oro a liquidare ok potete regalargli direttamente delle barrette d'oro ora lingottini oggetti d'oro proprio oro da investimento fisico questo ha tutti i problemi dell'oro da investimento fisico problema numero uno quando lo compri e quando lo vedi ha uno spread ora o sei un intenditore perché c'è gente che poi mi scrive eh ma io lo riesco a comprare e vendere l'oro con solo lo 0,5% di spread quindi o sei un intenditore e sai da chi andare e hai accesso a mercati a cui nemmeno io ho accesso nemmeno io me ne intendo oppure onestamente ti becchi un grosso spread quando compri quando vendi tuttavia non è così male l'oro poi magari speri che nel giro di 10 15 anni si apprezzi di valore dovrebbe tenere quanto meno l'inflazione anche se l'oro uscilla e uscilla in maniera più imprevedibile delle azioni secondo me comunque dare il minore degli oggettini d'oro ha un suo perché e il secondo problema però è un problema di custodia dove li metti questi oggettini d'oro se li metti nella tua cassetta di sicurezza hai lo stesso problema dell'etf azionario di fronte eventuali creditori o in caso di successione come fai a dire che quello era del minore e non vale mettere una cassetta di sicurezza e attaccarci in etichetta è di Silvio è di mio figlio Silvio non penso che venga accettato dai creditori quindi se lo tieni in posti se hai una cassaforte in casa potresti tenerlo lì anche se è il posto preferito dei ladri così uno di voi per puro caso è uno che ha grossa esperienza con il mondo della sicurezza viene chiamato anche ogni tanto alle forze dell'ordine per fare sopaluoghi dopo i furti in casa e mi ha detto che i posti più sicuri dove tenere i preziosi sono le stanze dei bambini in particolar modo in mezzo ai giocattoli ora la sua teoria è perché i ladri rispettano i bambini la mia teoria è perché i ladri pensano che nessuno sanno di mente metterebbe dei preziosi in mezzo ai giocattoli dei bambini e perché i giocattoli dei bambini sono così incasinati cioè c'è un marasma di giocattoli spezzettati in mille pezzettini e hanno di solito tanti vani e contenitori che il ladro non ha tempo per mettersi a ispezionarli uno a uno questa è la mia teoria la sua invece è che i ladri siano così gentili uomini che non toccano le stanze dei bambini comunque sappiate che se glielo date e glielo fate mettere che so dentro al suo camioncino preferito sperando che non poti mai il camioncino giura nella sabbiera e lo trovate il vostro lingotto infilato nella sabbiera di solito è abbastanza al sicuro dai ladri in casa quindi l'oro ha questo problema ci sono anche altri oggetti di valore che si possono regalare ai minori ad esempio orologi o altri oggetti di valore lì bisogna però uno intendersene due è quasi impossibile lasciarlo nelle mani del minore perché se il lingotto è molto difficile che lo spacchi di solito se ha già 4-5 anni ne capisce il valore lo tratta come una santa reliquia il Rolex e non escludo che poi finisca lanciato dal quarto piano quindi o come minimo finisce non so agganciato a una gru che lo trasporta e lo mette in altre posizioni oppure come regalo di fidanzamento alla bambola preferita da parte del bambolotto maschio ecco quindi sappiate che rischiano dei danneggiamenti gli oggetti di valore terzo oggetto che potete regalare e qui saluto Marco Amadori che lo fa regolarmente con i suoi nipoti potete regalare dei bitcoin regalare dei bitcoin vuol dire che voi li comprate presso un exchange regolarmente dichiarate su quadro ww che li avete comprati dopodiché gli date al minore come fate a darli al minore beh gli create un wallet con le famose 12 parole c'è un mio video su come creare un paper wallet un po' un video non ve lo linko neanche perché è un video un po' da maniaci secondo me ci sono dei modi molto molto più semplici anche se leggermente meno sicuri per creare un wallet gli create il wallet con le 12 parole trasferite il bitcoin su quel wallet dopodiché distruggete il wallet restano le 12 parole e date le 12 parole in consegna al minore voi le dimenticate è inevitabile anche se volete ricordarvele probabilmente ve le dimenticherete col passare del tempo ora l'importante è che non le dimentichi il minore il minore quando sarà grande potrà incassare quei bitcoin in realtà può già incassarli anche da minorenne quindi può incassarli e può siccome la rete di bitcoin non è minimamente controllata dall'autorità può anche spostarli da minorenne però non troverà nessun exchange legale che gli convertirà in errore da minorenne chiaramente quindi sappiate che potrebbe già usarli appena arriva ad essere tecnologicamente in grado di usarli potrebbe già usarli potrebbe già spostarli potrebbe già farne quello che ne vuole potrebbe già accederli in cambio di oggetti o potrebbe già accederli ad un privato in cambio di soldi non riuscirà finché minorenne accederli a un exchange perché gli exchange seri chiaramente accettano account solo da maggiorenni con carte identità e documenti quindi c'è anche la possibilità di regalare dei bitcoin quelli dovrebbero cancellate dovrebbero finora sono cresciuti nel lungo termine quindi uno può ipotizzare che crescano anche nel futuro nel lungo termine non hanno nessun problema di custodia di per sé ma hanno un grossissimo problema di custodia delle famose 12 parole perché il minore deve segnarsi queste 12 parole in un posto dove non le perde io consiglio sempre di segnarle dietro i quadri perché il quadri è una cosa che sta attaccata alla parete quando lo tirate giù la prima cosa che fate è girarlo e guardare per vedere se per caso c'è la firma di Michelangelo Raffaello sia mai ok quindi sicuramente se lo girate vedete le 12 parole e vi dite ah ecco dove erano ok state attenti a non buttarlo via spero quindi i quadri sono una cosa e nessun lado che va a guardare dietro i quadri guarda dietro i quadri se ci sono soldi ma non se ci sono le 12 parole dei bitcoin a meno che non segua i miei video saluto i ladri ecco quindi diciamo dovete custodirgliele un po' voi queste 12 parole in qualche modo sono esenti da aggressioni di creditori non perché legalmente non possano aggredire anche questo ammontare di soldi ma perché potrebbe essere abbastanza chiaro che siano del minore se le 12 parole sono nella stanza del minore e in ogni caso il creditore non ha modo di arrivare ai bitcoin se non conosce le chiave private ok quindi questa è anche una possibilità e direi che abbiamo finito la mega carrellata sugli investimenti per minori so che non era il video che vi aspettavate vi sareste aspettati una strategia ottimizzata di etf incrociati no perché anche perché se comprate etf di fatto è un investimento vostro che fate moralmente a nome del minore e quindi ve lo investite secondo la vostra strategia ottimizzata in base a non so che cosa alle vostre palle di cristallo e previsioni astrologiche e quindi ve lo investite secondo la vostra strategia e l'investimento eventualmente andrà come avranno i vostri investimenti in generale comunque vi ho presentato anche quegli alternativi che sono riuscito a trovare adesso che dico per i pignolazzi se ne conoscete altri alternativi veramente intestati al minore scrivetemeli qui nei commenti come fanno tutti ah mi hanno detto anche che devo dire premete il tasto like e subscribe con campanella no la campanella no perché è una gran rotura di scatole ciao a tutti e premete il tasto like mi hanno detto di dirvi clic clic Grazie a tutti.